Sono qui con Elisabeth Robinson, Business Angel di Italian's Angel for Growth e volevo chiederle, lei conosce Innovation Lab già da molto tempo, cosa pensa di questa iniziativa e cosa ne pensa delle start-up che ci sono in finale? Allora, Innovation Lab, l'ho seguito ormai da diversi anni, è unico sul territorio italiano. Ci sono ormai diversi eventi per start-up, Innovation Lab è collegato con tutti, Mind the Bridge, Start-up Initiative di Intesa, però Innovation Lab è una cosa in più, ci sono sempre i creativi, c'è un vero che non esiste in altri posti e qui è proprio il momento che ci troviamo tutti, tutti, tutti quanti, cioè i start-upers, quelli che finanziano, quelli angels e è anche bello che sempre al finale, alle fine dell'estate, ci vediamo tutti prima dell'estate. Ok, grazie mille.